Siamo pronti, siamo preparati, siamo ottimisti, ne vedremo delle belle, noi dobbiamo fare meglio della Corea. Io sono onestamente fiducioso, però è molto complicato. A livello di medaglie qual è l'obiettivo? Eravamo a 10 con 3 d'oro, dobbiamo fare meglio, vediamo quanto faremo meglio, se ci riusciamo, perché insomma lo vogliono fare tutti meglio. Le medaglie sono le stesse praticamente, ho visto un paio di compilazioni sul misto. Sullo snowboard sono ottimista sul misto.